Ciao Giulio, come stai? Ciao, bene, bene. Tutto bene. Nuova stagione che è il State of Mime a quest'anno. Oggi iniziamo questo nuovo anno. Sicuramente le aspettative sono alte e la condizione deve ancora migliorare, però oggi ci rimettiamo in gruppo e iniziamo a ritrovare le buone sensazioni. Pensi che oggi è una volata con un piccolo gruppo o è un finale con una salita molto... No, oggi è una tappa molto nervosa, molto dura e secondo me arriveremo a un gruppetto un po' ristretto, però non dovrebbe esserci una grossissima selezione individuale, però vedremo perché le prime gare dell'anno sono sempre un po' particolari, quindi vedremo.